ok ciao a tutti siamo alla finale rapina mano armata alla pacific standard ecco qui vedete il bottino è lì è però adesso si alza allora ecco adesso li devo chiamare ok tre inviti li ho mandati siamo chiusi quindi nessuno può entrare e solo invito ok vediamo svenc che cosa fa sicuramente mangani è andato a prendere a prendersi giubbotti queste cose qui snack che servono aspettiamo aspettiamo un minuto beh il tempo l'ha avuto vediamo che livello è questo qui ottimo va bene va bene vuole fare i soldi vediamo ottimo è una normale come c'è andato però pensa che non ce la facciamo ma ce la facciamo 5 10 0 35 va bene non ha importanza vediamo l'ultimo che è entrato un 57 va bene giochiamo dai giochiamo c'era ma al mal che vada non pubblico questo video e quando ci sarà quello buono tanto non sono in live ok 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 adesso do invio così tolgo quelle lester che parla parliamo di soldi Allora Cos'è che Vediamo cosa dice Cos'è che dice E io non Non li conosco Dobbiamo stare così Vediamo cosa scrive Vediamo Cosa dice Svenka Vediamo cosa vuole Allora Ah Ok Ci vestiamo la polizia Eccolo Pacific Pacific Cosa 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 forse è stato svenca o non boh ma di solito non lo fa così veloce abbiamo piazzato delle cariche mi sembra mp deve scassinare la seconda vado giu spieghiamo che mi ricordo vediamo com'è il sistema il mio computer ok ah si si è facile ok allora ancora una speriamo che hanno sparato le guardie deve mettere ancora l'ultima carica prendiamo il maloppo la la Vieni a te! Vieni a te! Hai il caffè che puoi portare! Ahahahah! Vieni a te! ah 1 e 2 e 50 è scattato l'allarme sono cazzi adesso adesso è arrivato la sbatta vedrai che ci manda quelli forti ci manda quelli forti e ci spaccano no ma ce la facciamo no no non c'è per il momento tutta la polizia di los angeles è qua fuori per il momento si ok io preparo il lancia granate dove è piccolo ok ok Ok. Sono ancora integro. E' morto uno. Uno dei nostri è morto. Porca Eva. E' morto. Qui si vede veramente. Come. L'abilità è proprio qua. Sul finale. Porca Eva. Come mai si è fatto. Ma non corrono. Dovrei scriverli. Vabbè. Vediamo. Vediamo un attimo. Dovevano farmi beccare. Vediamo un attimo. Sì Secondo l'ho preso E' morto ancora Vediamo chi è Ancora lui E' andato E' un 133 Peccato Cazzo Come mai sbaglia? Non le ha fatte queste? Ed è solo Seguire il gruppo Sarei io Devi seguirmi Basta Non so cosa sta Combinando Sarei io Forse han capito Han capito Di usare Armi pesanti Primo punto Sono secondo E' andato L'ho preso Un altro morto Ancora Divi Diciannove Ottantotto Continua Andare Vediamo che fanno Eppure Lester Parla In inglese E glielo dice C'è Che minchiata Invece di Seguirmi Guarda Io ho la vecchia Maniera Sto giocando L'ho preso andiamo capito ancora di via 88 è andato è andato ancora non va bene 14 e io queste qui ne ho fatte a centinaia quindi so com'è qui adesso quelle lì del casino perché sono le prime porta pazienza ma appena so tutto poi cambia cambiano le cose apro le porte più veloce quindi ci vuole un po' di tempo adesso dove vai dove vai come out of the bank come down the alley to the right ciao 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 cazzo ho mancato ciao dai forza arriva ancora una volante dai abbandonato hai visto non è uscito apposta ma il video lo pubblico lo pubblico cos'è successo ah non ha abbandonato ha fallito 19 19 l'ho beccati ancora di più no andiamo siamo a vedere cosa succede siamo ancora qui meno male dai This is the freaking police! Give it up! What the f**k? Move and fire! Move and fire! Don't let them corner you! Quelli magari vogliono vedere le mie cose! Cazzo c'è un punto da manco! Una volta lo toglie, una volta lo mette! Ancora morto! DV è morto! Fermo! Mi sa che non ne hanno fatte molte loro! Sono sempre in testa come uccisioni per ora! Mi dispiace questo! Mi aspettavo un po' di più! Perché loro stanno usando delle armi che secondo me non sono per questa missione! Armi spaziali quelle cose lì! Mi spaziali quelle cose lì! Mi spaziali quelle cose lì! Mi spaziali! Mi spaziali! Armi spaziali! Mi spaziali! Non lo, non lo, non loâu! Sono sempre in testa. Un atacimento rielo! guarda una volta toglie il punto è che c'erro ancora ancora ma porca troia vedi come scendono io continuo a salire di uccisioni e loro scendono perché non non hanno potenza fisica diciamo perché è fisica e potenza fisica adesso è un peccato peccato perché hanno fallito non so non so perché hanno fallito non so perché via dai corri cazzo hanno capito qualcosa adesso no no Grazie a tutti! Basta Lester! Grave N' Go! Oh, siamo arrivati! Finalmente hanno capito qualcosa! Adesso vediamo la fuga! Adesso la fuga è importante! Torca troia! Non ci voleva questo qui! Ora il CEO di Pac Standard is calling the mayor! He's probably patched in the chair of the Union Depository! And they're all about to tear the gas out of the chief of police! Cops on the street will be highly motivated to break him down! Ok, tutto ok! Chi è dietro a me? Adesso vediamo! Ok, bravo! Bravo ragazzo! Bravo! Se non era per quella macchina non sarei caduto! Chi è che è caduto? Svenca! Incredibile! Ma stai... Ma stai... 14... Vuole... Cos'è? Vuole vedere le uccisioni! Siamo alle moto comunque! Adesso siamo alle moto quindi... Non ci sono più... Cioè si scappa ma... Adesso iscrivo... Almi seguitemi per favore! Ho scritto con me! State con me! Andiamo dai! Guarda! Uno va per i cazzi suoi! Chi è che lo lì? Svenca! Eh ecco perché! Stanno facendo... Vaffanculo va! La strada... Larga! Non stanno... Non vogliono andare... Sul canyon... A salire... A fare il salto! Non ce la fanno mi sa! E la parte più bella è proprio quella! Il salto che... Dalla montagna! Cavo! E' una cosa stupenda! Fratti quando... E' uscito fuori questo colpo! Eravamo tutti contenti! Eravamo tutti contenti! Veramente! Quando la prima volta siamo riusciti... A concludere questa... Rapina! Adesso vediamo questo svenca cosa fa ancora perché... Mi sa che si ammazza da solo! La moto è sempre tutta un'altra cosa eh... Della macchina! E meno male che ci va di fortuna che non ce l'ha svat! Cosa si che... Si... E' un'altra cosa... Si... e io sono il più pericoloso ho visto che cosa mi ha messo davanti sta arrivando la sbat anche cavolo però ormai ci siamo cavolo ma che roba è aumentata le forze continuo a far fuori me ne sbatto del bottino perché è arrivata un sacco di polizia guarda ancora di più più massiccio cioè questa è proprio la rock star che è aumentato il tutto svenco è morto perché vede che il bottino scende ancora si è ucciso non mi seguono non seguono non stanno dietro a me quindi come due uccisioni ne ho ammazzati qua quattro però non sono morto non posso scrivere Dio santissimo voglio vedere cosa fanno cosa pensi di trovare io me ne vado adesso adesso li mollo perché io ho messo centomila qua dentro questo qua lo fa apposta e adesso esco ti faccio vedere io fine eh sì li ho mollati così questa rapina la faccio con altre persone mi spiace purtroppo è così è così questo qua mi sta facendo scendere il bottino io ho mollato perché mi ha stancato mi ha stancato la sua procedura che va da un'altra parte e non sta in gruppo questo svenca fine non non becca soldi lui non li prendo io ma io li ho quindi a me non mi ha fatto niente ma eh purtroppo il video finisce qui riprenderò col prossimo così avete visto anche le persone che vengono dentro che magari vorrebbero soldi in più però alla fine eh si devono accontentare perché devono farsi un po' secondo me di gavetta qua in gioco ciao a tutti Joker chiude al prossimo video ah ciao Giuse ok Grazie.